La condizione dei cristiani nella legge evangelica è la più onorevole e degna. Tre cose concorrono a formare un uomo felice su questa terra. Onore, ricchezza, diletto. Ma quale stato mai fu o sarà più onorevole al mondo di questo nostro? Io so che a grand'onore della nazione ebrea fu detto dal salmista che Dio non aveva fatto mai con altra nazione come aveva fatto con essa e non aveva manifestato ad alcun altro i suoi giudizi, come ad essa. Lo disse poi anche l'apostolo che agli ebrei erano stati confidati i divini eloqui. Mosè infatti ricevette la legge per tutto quel popolo scritta da Dio sulle tavole di pietra e tanto fu gloriosa codesta amministrazione che i figlioli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè per l'eccessivo splendore di cui folgorava. Ma di gran lunga e inferiore è questa gloria la nostra, poiché quegli ebbero la legge scritta esternamente sul marmo, noi l'abbiamo scritta intimamente nei cuori. A quelli la lettera a noi fu dato lo spirito. Ecco, dice Dio per Geremia, parlando dei nostri tempi, ecco verranno quei giorni e compirò sulla casa di Israele e sulla casa di Giuda un testamento nuovo, non già secondo quel testamento che feci per i loro padri in quel dì che presi la loro mano per liberarli dalla terra d'Egitto, poiché essi non si mantennero nel mio testamento e io li ho abbandonati, dice il Signore. Questo è il testamento che disporrò alla casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, darò le leggi mie nella mente loro e nel cuore loro io le soprascriverò e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo e non avranno più ad ammestrare il loro prossimo né più alcuno il suo fratello dicendo conosci il Signore perché tutti mi conosceranno dal minore fino al maggiore e mi volgerò propizio a perdonare le loro iniquità e mi scorderò dei loro peccati.